esplodono mamma mia che disastro eh ma hai stravinto si ma i trampe camminano sul fuoco stanno bruciando stanno bruciando non penso reggeranno ancora per molto eh eh ma ne ho pochi eh ragazzi come va? io sono FeriNiki io sono Seth e che se giochiamo a Tabs? ovvero aspetta 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 che lo devo leggere Totally Accurate Battle Simulator il nome più complicato di sempre comunque prima di tutto ci teniamo a dire una cosa questo gioco lo conosciamo da diversi mesi lo volevamo portare da diversi mesi ma purtroppo non c'era l'alpha disponibile la davano solo ad alcuni youtuber l'avevamo richiesta e non ce l'hanno mai data non ci hanno calcolato minimamente lo stiamo portando soltanto adesso perché prima di ieri non potevamo portarlo e quindi abbiamo deciso di farlo finalmente possiamo giocarlo per chi non sa che cos'è è un gioco dove si simulano delle battaglie metteremo dei soldatini che dovranno combattere tra di loro il gioco della mia vita iniziamo dei livelli giusto per ambientarci esatto anche un pochettino di sandbox esatto abbiamo 500 di money quindi 500 soldi io direi di andare dei vichinghi perché sinceramente siamo dei vichinghi no però aspetta dimmi se siamo a livelli abbiamo anche degli obiettivi qualcosa del genere non so per prenderli questi sono quelli da battere e hai soltanto 500 per batterli ok era ovvio perfetto abbiamo gli head butter scusa se non ho capito io sto più per le battaglie si scioglie ma capito no ma questo è strategico devi essere intelligente gli head butter che sono vichinghi che danno testate poi i vichings veri e propri con lo scudo quelli con le lance e infine credo quelli con le asce fortissimi io sinceramente metterei scudo 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 ok e lancere lancere testata testata ok io non sono molto convinta che vada benissimo abbiamo un budget davvero limitato in relax ce la facciamo andate ragazzi andate mamma mia quelli con lo scudo ma quelli con le lance si sono addormentati con le visti ma questa è rissa vera e propria ma che bello guardali no no sull'idea le lance ma li hanno mancati che vergogna guardali tutti su di uno quelli che danno le testate sono i migliori allora mille mille utilizziamo ancora i vichinghi questa volta facciamo così ascia 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 vediamo se ce la fanno ok ok secondo me sono fortissimi ma le asce che belle mamma mia ragazzi ma hanno pure il cappello ad orso sono fantastici ma trottolano ma sono pazzi ce l'hanno tutti con uno guardali guardali e non fa altro che volare da una porta e dall'altra ragazzi ma è troppo grande questa ascia non riuscite neanche usarla è il cappello ad orso che li fa capito un po' impazzire li vedi li vedi ma quanto mi vorrei lanciare anch'io così è fantastico cioè vi prego fatemelo giocare in real life sto gioco è la cosa più bella che io abbia mai vista te l'ho detto vediamo se speri nicchi una buona stratega allora davanti quelli che vanno a testate per sfondare gli scudi si per sfondare gli testate dietro i lanceri perché comunque questi sono a spada quindi non è che ti possono colpire da lontano ok tu li sfondi di testate ok ok mi piace mi piace allora e quindi ne mettiamo uno per ogni scudo esatto per ogni scudo la testa contro lo scudo vediamo cosa è più duro e poi se avanzano soldi magari ne mettiamo qualcuno in più per andare più sicuri di testate capito ok che magari qualcuno la manca magari qualcuno si lancia e lo manca invece due tre uno due tre sì mi piace questa formazione uno due tre guarda qui con le testate boh e sì che funzionano ho avuto ragione ho avuto ragione le testate vincono sugli studi per i nicki sa sfruttare le testate sì allora ragazzi per favore con quelle lance combinate qualcosa di buono guarda che non sta andando troppo bene eh lo so lo so quelli con le lance ah no disgraziato guarda ci sta però abbiamo vinto ci ha ucciso però un nostro hai visto cattivo cattivo però ho avuto ragione la cadernetta è stata è stata epica te lo dico te lo dico adesso fammi vedere ma colpisce i nostri colpisce i nostri colpisce i nostri allora allora non va bene dai con quei cannoni ce la potete ancora fare di fatto sono tutti incastrati perché di fatto si si sono focalizzati su quei quelli con l'ottura suoca ce la facciamo secondo me sì dai ragazzi che stanno arrivando adesso non lo so se li prende no colpiscilo colpiscilo dai ancora no ce l'ha fatta no l'abbiamo persa la raffica di frecce ce la può fare ragazzi ne avete preso solo uno per ora un po' più in fretta per favore che stanno arrivando no 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 fanno davvero schifo io lo voglio dire chi mi ha insegnato a tirare le frecce scusatemi ma tiro meglio io con l'arco guarda vi serve un corso di ripetizioni state mirando per terra attenzione però attenzione è una sfida alla pari uno è stato infilzato no no vabbè ma quello sono fatto cinque da solo ho ripeto tiro meglio io con l'arco mi hanno davvero deluso per proteggere un pochettino gli arcieri e per metterli ma dai però questi arcieri sono proprio smirati ragazzi non è possibile io non ci credo io non ci credo che stanno facendo questo licenziamoli è uno ancora vivo lo vedi dai ciao fai è stato un eroe dai lo dovete prendere siete due l'avanzata cioè non mi fate vergognare stavolta ok è tutto nelle tue mani puoi essere l'eroe di questa storia ne rimangono vivi solo tre e tu è una davvero ma perché ma prendi quelli spara spara si è incastrato cannoni qua vediamo vediamo come va vabbè prendi la pietra ma dai quello ne ha preso ce l'hai visto che ha preso la pietra eh sì lo sto vedendo purtroppo andate ladri sta mancando tutto stanno mancando tutto ma dove l'avete presa la mira dalle patatine eh penso proprio di sì ma poi così colpisce pure i nostri è un disastro sono smirato guarda come smirato ma colpisci li ce li hai di fronte dai colpisci li uno alla volta ne stiamo facendo adesso li prendi tutti ok mancati ti prego ne manca uno vabbè io non ci credo colpiscilo eh ecco grazie grazie che finalmente ce li fai fuori cannoni inutili guarda senza parole siamo passati al sandbox ovvero dove possiamo fare noi tutto quello che vogliamo e creare delle vere e proprie battaglie e la prima battaglia che creiamo è ilary versus trump è la battaglia del secolo ragazzi lo sapete anche voi trump perchè trump ha due fucili però e ilary no 3 2 1 ma cosa tira ma tira shurik oh mamma mia mamma mia trump oh mamma mia no sta tirando non ci credo tira le email per le cose varie di politica che ci sono state è geniale e ilary ha vinto su trump assurdo di gmail aspetta io pensavo a posto di shurik invece erano gmail e lui mitragliava e lei ha vinto ha vinto ilary con le gmail è la più mirata secondo me la battaglia più epica che abbiamo mai visto ti giuro battaglia bellissima allora per favore puliamo sono curioso ok io vorrei provare queste truppe che costano un po' di più il super peasant peasant e poi questi che stai mettendo questo ma i fuocati ma sono fantastici questi sono i super e questo è il dark ok facciamo tre di loro super versus dark vediamo contro uno vai sì 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 secondo me mamma mia aspetta aspetta ti prego fammi capire una cosa quanti riesce a farne è lui che fa queste cose mamma mia l'hanno incastrata l'hanno incastrata di mezzo secondo me però guarda continuo continuo questo se la vince da solo se la vince solo ha vinto ma quanto è forte ma quanto è forte assurdo incredibile è geniale bellissimo sembra uscita da Naruto allora cos'è il chicken man scusate chicken man chicken man che fai? cosa dovrebbero fare? non comprendiamo perché costano mille vediamo contro i farmer contro i contadini mi sembra giusto vero? mi sembra la battaglia adatta galline contro contadini teoricamente non so cosa sia un chicken man perdonatemi ma lanciate galline? che esplodono? no escono da una zona che non vogliamo nominare escono dal sedere diciamolo escono dal sedere sì ma sono scarsissimi sì ma ti ci vedi a sparaflashare galline dal sedere ma ne hanno fatto furittore è geniale ti giuro che è la cosa più geniale che abbiamo mai visto allora aspetta aspetta a questo punto è doveroso sparaflashare galline dal sedere a tuta a profusione a profusione vediamo adesso cosa succede questi posizionano si girano e fanno papapapapa guarda lì guarda l'armistaglia di galline vedi questa è la dimostrazione che se qualcuno a livello storico avesse investito sulle galline avrebbero vinto tante guerre in più cioè le devi proprio sparare a profusione come fai a spararle a profusione? devi mangiare molti fagioli fagioli di galline però perché sennò più non escono galline ma esce altro esatto bisogna chiarire molto bella questa battaglia mi stanno regalando ognuno un'emozione diversa spero belle emozioni comunque non sempre non sempre aspetta c'è il chicken man man è ancora più potente e vabbè ma spara flash e allora galline giganti scusami allora dammi un attimo a questo punto voglio capire cosa andrà a succedere adesso aspetta un attimo abbiamo iniziato a giocare questo gioco seriamente riproducendo battaglie storiche strategie di guerra con i vichinghi i greci capito napoleone tutte queste cose e adesso siamo così sembrava quasi un video utile per studiare un po' di storia per capire un video serio per una volta nel nostro canale di vari tipi di eserciti e invece e invece spara flashiamo galline dal sedere aspetta non sappiamo ancora cosa faranno loro ah ma spara flashano chicken man che spara flashano galline esatto è un loop improponibile fanno la produzione e poi mentre schiacciano gente correndo e mentre schiacciano quindi comunque hanno un'utilità lui ha difficoltà sta per crollare secondo me è giunto il momento una battaglia tra me e Fiorinichi ci siamo imposti come budget 8.410 non so bene perché e adesso il lato sinistro ovvero il rosso è fatto da me il lato destro ovvero blu è fatto da Fiorinichi ovviamente senza guardarci a vicenda esatto perché altrimenti uno avrebbe fatto il punto di guardare l'altro esatto ognuno ha fatto la sua parte quindi adesso io vedo quella di Steph allora voglio dare una spiegazione per la mia ok io sono andata di pure ignoranza ne ho notato ho messo un po' di cannoni che poi ho anche sbagliato a metterli perché ho paura che colpiscano le mie truppe ma ci ho provato ok e ho messo quelli con la clava con la mazza come la vogliamo chiamare tutti quelli che vanno di testate perché li adoro e un po' di shield giusto per far sembrare che avevo una tecnica in tutto questo e anche qualche samurai per fare qualche danno perché altrimenti qua tu non fai nulla e vabbè sì li ho messi là giusto per sembrare anche lì che io ci abbia davvero riflettuto nel fare queste truppe quando invece io volevo farla full testate ti dico la verità come puoi vedere io ho tentato una tattica che non so neanche se funziona è proprio un tentativo che volevo fare di mettere le truppe che partono molto da dietro in questo modo teoricamente per più tempo difendono le cose che attaccano da lontano che in questo caso ho messo delle baliste e poi due che sparano frecce giapponesi che manco se sono buone quindi strategia verso signoranza vediamo chi è che vince esatto pronta? sì prontissima andiamo dai oddio abbiamo esagerato ragazzi stiamo facendo esplodere il pc oh mio dio a saperlo non ne avrei messi così tanti mayday è colpa mia che ho esagerato più di te sinceramente mayday sembra in vantaggio però tu hai ancora tutti i cannoni vivi ok una appena schiatata ma l'hai visto che il mio cannone ha distrutto il mio cannone sì ma siete scemi ve lo dico il mio cannone ha fatto fuori l'altro mio cannone vabbè vabbè guarda i samurai che vai samurai che ho vestito su di te bravissimo 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 guardalo ma chi sta attaccando adesso non c'è oh mamma mia sta puntando quello nella sua mente vediamo vediamo devi schivare guarda il tuo è impazzito è impazzito ragazzi non riesce più a stare calmo vai samurai what's up bravissimo attenzione adesso pure quello cos'è la battaglia finale asha versus samurai sembra l'ultimo samurai ma hai visto quanto quanto si lancia è bellissimo proprio va di cattiveria si lancia così comunque io ho un uomo tu ne hai ancora incastrati negli alberi nei tantissimi si ma sono inutili sta facendo incastrati ho vinto vedi le testate le testate hanno avuto i loro effetti lo sapevo che quelle testate sono migliori secondo me sono quelli che hanno bloccato il mio pc anche secondo me non ho quasi dubbi almeno siamo riusciti un po' a vedere la divertente divertente fare queste cose era davvero una figata comunque incredibile davvero che il samurai si è andato fuori 15 dei miei da solo allora ricordiamoci per prossime battaglie che è davvero forte e ricordiamoci che i cannoni amassano gli altri cannoni alleati l'ha proprio preso in pieno almeno lì è stato preciso dicevi sempre che non è mai preciso voleva prendere uno dei tuoi con la sua mira perfetta ha preso l'altro mio cannone ti sembra ti sembra che disastro è stato molto bello da vedere facciamo un'altra battaglia ok però questa volta senza unità perché altrimenti scatta troppo solo con un po' di cose speciali tipo baliste queste cose spegniamo tipo un 10.000 test e vediamo chi vince ok ci sta ci sta questa battaglia mi sembra io non li avevo visti i tuoi allora cosa sono esplodono cosa fanno credo che esplodono non ne ho idea niente io ma è stato girato su troppi su troppi io ho messo 5 trump allora non perché mi piaccia trump ok ci tenevi a precisarlo ma perché ti piacciono i due mitra tenuti così vero quando ha sparato prima è stato fantastico cioè Hillary è banale perché lancia l'email lui è stato fantastico cioè questo c'è da ammettere non ho idea di che cosa può succedere in questa battaglia vai 5 trump andate esplodono mamma mia che disastro eh ma è stravinto sì ma i trump camminano sul fuoco stanno bruciando stanno bruciando non penso reggeranno ancora per molto eh eh ma ne ho pochi eh ma ne hai ancora tu pochi ma incastrati ti rendi conto che camminano pure sul fuoco grazie 5 trump ci fermiamo così per questo video se volete vederne altri fateci sapere nel caso lasciatevi tanti likes eccetera stavamo pensando che magari si possono creare delle vere e proprie storie giusto per ridere ancora di più fare tipo magari ci suggerite qualche storia vichinghi contro greci facendo storie strane non lo so magari ce le possono anche suggerire noi le attuai attuia non lo so attuiamo 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 in questo gioco vedi voglio fare la filosofia che poi non ci riesco questo è un fallimento incredibile bella che ci riesco a dire su tutto lasciate giù me like questa è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi ciao alla prossima ciao 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 ciao